E' stata una delle protagoniste della cronaca nera di fine anni Ottanta. La sua storia, quella di una donna fascinosa che con l'aiuto del giovane amante si libera del marito con 17 coltellate nella notte tra il 16 e il 17 luglio del 1989, rappresenta una sorta di fujetton ancora vivo ma che risale appunto ad oltre un quarto di secolo fa. Maria Luisa Redoli, la cosiddetta Circe della Versilia, che fu condannata all'ergastolo per l'omicidio del marito, è tornata libera. Lo scrive La Nazione nella cronaca di Via Reggio con uno scoop del capo servizio Enrico Salvadori. Maria Luisa Redoli, lunedì è uscita per l'ultima volta dal carcere di Bollate alle porte di Milano. Ha 76 anni, scrive La Nazione, ma come dice il suo legale, tanta voglia di riprendersi la sua vita e il suo futuro, scarcerata nonostante l'ergastolo infritto nel 1991 dalla Cassazione. Ha scontato 24 anni per l'omicidio del marito Luciano Jacopi, 69 anni, trovato morto squassato da 17 coltellate nel garage della loro abitazione in via provinciale a Forte dei Marmi. Con lei era stato condannato in via definitiva l'amante Carlo Cappelletti, all'epoca 23enne e carabiniere a cavallo. L'ordinanza di scarcerazione, rivela la Nazione di Via Reggio, è stata emessa dal Tribunale di Milano. Per cinque anni la donna avrà degli obblighe, non potrà lasciare dalla 23 alle 7 del mattino la casa in un paese della provincia di Pavia, dove va a vivere insieme al suo secondo marito Alberto Andena, otto anni più giovani, sì perché la Circe della Versilia durante questi anni di galera ha conosciuto in carcere Alberto Andena, dove svolge attività di operatori volontari e poi lo ha sposato. Il legale della Redoli, il milanese Alessandro Maneffa, scrive alla Nazione, ha combattuto tre anni per arrivare alla libertà condizionale.